E con lei ci sono anche le uova di cioccolato. Allora, qual è l'obiettivo di questa iniziativa che è giunta alla 29esima edizione? L'obiettivo è quello logicamente di supportare la cattedra di ematologia e in particolare i pazienti. Il nostro scopo principale sono i pazienti ematologici. Per noi la mission è sostenere le persone che hanno questo trauma che nasce da una diagnosi. Trauma che non riguarda solo la persona ma tutta una famiglia al completo viene stravolta da questa diagnosi. Noi ci prodighiamo, noi intendo tutta la sezione di Roma che è una sezione dell'AIL, della sede nazionale perché possano i nostri pazienti avere il supporto degno di quello che è il decoro della vita giornaliera. Tant'è vero che il professor Mandelli, che da sempre ha sostenuto questa idea, ha creato la residenza Vanessa, proprio sita adiacente alla nostra sede via Rovigo. La residenza si trova in via Forlì ed ospita nelle 15 stanze nelle quali è realizzata una piccola famiglia. È realizzata una stanza a due letti, un piccolo frigorifero, un televisore, ma poi al piano terra c'è la stanza comune, c'è il pranzo, c'è il giardino, c'è la quotidianità. Anna Maria, le uova, abbiamo pochissimi secondi, le uova dove possono essere appostate e quando? Le uova grazie ai nostri volontari che sono la forza dell'associazione, le troverete in Roma, tutte le piazze principali, Spagna, Popolo, San Lorenzo e Lucina e in tutti i paesi in provincia di Roma. Quindi purtroppo sentendo anche il mattempo, venerdì, sabato e domenica, noi ci auguriamo che il tempo ci assista e possiamo raccogliere fondi. Grazie, andiamo avanti con il nostro giornale.